e compromessa. Eppure per un'altra concessione di Shevchenko per Tomasson subentrato a Crespo mezz'ora prima. Poteva bastare così un 5-2 per celebrare Shevchenko per Tomasson subentrato a Crespo mezz'ora prima. Poteva bastare così un 5-2 per celebrare Shevchenko a pallone d'oro, confermare l'imbatibilità di Ancelotti dopo la sosta invernale e recuperare alla Juventus i due punti mancanti dopo lo 0-0 del Dele Alpi. Grazie a tutti.